Che cos'è che secondo te ha come caratteristica il campione? La freddezza, la testa. Dici che è tutta testa? È quello che caratterizza un cavallo forte da un cavallo più debole. Quando tu corri e vai in pista, quali sono le cose che poi a fine corsa ti ricordi di più? Lo stacco della macchina. Ma dai, non l'arrivo, la patenza. No, perché è il momento più importante, si decide la corsa, la vittoria. Grazie, è sempre bello sentire le cose che vanno al di fuori della parte tecnica ipica. Grazie mille, ciao.